Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze verso le 11 in via San Luca a Pieve di Curtarolo. Forse per una mancata precedenza due automobili si sono scontrate quasi frontalmente. Una era condotta da un piazzolese di 73 anni e la seconda da una donna di campo San Martino di 72. L'auto della signora si è alzata sulle ruote sinistre per poi cappottarsi sul fianco della vettura. Assistita dal personale del SUEM e dai vigili del fuoco, la donna, non grave, è stata ricoverata per precauzione all'ospedale di Cittadella per accertamenti. Illeso l'altro automobilista.